Un Natale con ben poco da festeggiare per la Boeing e soprattutto per il suo amministratore delegato. Dennis Meilenberg ha rassegnato le proprie dimissioni, forzato meno al momento non è dato sapere. Al suo posto il colosso americano dei cieli ha nominato David Kellun. Un cambiamento necessario ha sottolineato l'azienda nel tentativo di ridare prestigio e una reputazione al gruppo dopo gli incidenti aerei in Indonesia ed Etiopia e la missa a terra del 737 MAX. Nelle due tragedie persero la vita complessivamente 346 persone, tra cui 8 italiani. Boeing vuole e deve riparare i rapporti con le autorità di regolamentazione ma anche con i clienti. Intanto il quadro finanziario del colosso resta traballante. I modelli 737 MAX per ora continuano a non volare nonostante alcuni ordini milionari arrivati dagli Emirati Arabi Uniti in attesa di un nuovo decollo e il via libera dell'ente federale americano per l'aviazione.